Ecco, la Samantha, cioè Borghi e Galeotti, l'equipaggio parte, parte, e noi andiamo, spero che non incanda il cellulare per strada, bimbi te, no, schiettino! Ok, il teolo è già capottato, vedrò di riprendere uno disperso, e via, saluti, grazie! Sì, queste due fanno una brutta fine, praticamente appena le ho raggiunto, altro che viene certo, botto sicuro, botto! Salute per la camera, grazie, occhio, grazie, e via, qui si va, così le riprendo, forse si si, forse no, si Galeotti, a capire un po', un rio che vanno giù, un rio che vanno giù, c'è il sorpasso, sorpasso, sorpasso! E va, e Bazzalli va, Bazzalli parte va, è in solitaria, è in fuga! Perfetto, e arriva primo!